salve a tutti tieni sta telecamera per favore che a me ce la lì mi metti in soggezione io porc madonna ben tornati qui con la ghettano corporation teoricamente se no i nostri canali molto belli molto swaggy no scusa ce l'ho da schierirmi la gola ah dovevi schierarti la gola ok dammela no no se ti è fatto questo video diciamo chiamiamolo video perchè è tanto carino unboxeremo ai fermo il tre di messe in edizione di dello cermone tutto dello cermone teoricamente volevamo pubblicare un'altra cosa ma dato che non riusciamo a pubblicarla vi potete se invece riusciamo a pubblicarla se riusciremo se no a me e non vi beccate più video wind waker a una piccola precia prima di cominciare questo coso qua è già stato unboxato dal mio negoziante di fiducia di casineffa perchè voleva controllare che fosse tutto a posto in realtà gli ha rubato il 3DS e ha scambiato il 3DS guardate 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 perchè abbiamo un pochi tagli che non ha affatto già il nostro amico netto guardate 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 come ho mai avuto un buon rapporto con le scatole apriamola molto lentamente si ma fai vedere la costa parte come esce fuori non so come sta uscendo fuori tutta salva qua ooooh ehi ma cacchia potrei anche buttarla in una parte che ce l'ho sentata cosa c'è? la carta è real butta interessante ma io stavo prendendo un webcam al contrario noll vabbè poco male noi facciamo i video in hd oppure a 100 hd allora qua c'è il ah sempre per il solito gioco gratis si butta via qua vabbè ci spiega come avviare 3ds a xl perchè ci danno le istruzioni in spagnolo? iniziar programmas boiafaust porca madonna poi abbiamo le informazioni si importante ma è diventata della spagna la nintendo? la ds manuale di istruzioni poi abbiamo un bellissimo pezzo di cartone non è che boh puoi mangiare o puoi massicare o puoi buttare e poi questo va buttato via prima di y vero o di y? y come x ah è vero l'y è il negro è quella roba è gigantesco wait look 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 how it's big vabbè è un 3ds a xl non mi posso scanalizzare più tanti pure io non ho mai visto uno in vita mia quindi ah aspetta mi sa che mi ci si specchia qua dentro no 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 non c'è problema come potete venire e vedere c'è la librea di x non y xlorm perchè sono deficiente ma ci sono anche c'è ci sono tutti i due che cazzo stavo buttando il resto che era rimasto sul tavolo si potete anche vambano a vedere è un pro buttabile replay e no questo non come potete vedere anche qua dietro c'è 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 la rana occhia che non mi ricordo come si chiama si lo sapevo che si chiamava profil stavo mettendola a prova alle vostre capacità perchè chi segue il nostro canale dai conoscere i pokemon sennò non si faccia scopare da un ipodon xdxd da un ipodon da un ipodon e chi non conosce i pokemon non conosce i podon quindi si vergogna di se stesso e ipod is the best vediamo se è già carico che ci piacerebbe eh comunque sia questo è il 3DSi xl l'edizione 3DS per piacere non parlano di fare delle figure di nerda ma io sai che non sono niente non sono rimbambito quest'ora 3DS xl non 3DSi perchè i 3DSi non solo si ha line del nome e made in cina utilizzano unicment avec wap non diventiamo dei francesi e con questo video credo che abbiamo concluso oppure no non abbiamo faglio vedere magari un po' più da vicino perchè è ma non non Grazie.